Musica Cos'è Mondo Leasing? Mondo Leasing è un blog magazine col quale noi come Banca IFIS vogliamo offrire a tutti gli utenti del mondo leasing una serie di informazioni, di aggiornamenti, anche di pareri e avere anche la possibilità di comunicare le proprie impressioni o le proprie perplessità circa questo mondo che è in continua espansione ed in continua evoluzione. È uno strumento che serve non solo agli imprenditori che sono interessati a capire qual è il miglior modo per investire con il leasing ma anche ai produttori, ai distributori, ai vendor che sono interessati a capire come si evolve questo settore. In Italia c'è ancora molto spazio per il leasing e c'è anche molta necessità di investimento da parte delle piccole e medie imprese e noi con questo blog intendiamo sollecitare questo mondo. L'approccio di Banca IFIS, di IFIS Leasing nel mondo delle PMI, delle piccole e medie imprese è un approccio pensato e strategicamente indirizzato a sostenere le imprese negli investimenti che devono fare. La tecnologia è così veloce nei cambiamenti che richiede continuamente aggiornamenti per gli imprenditori affinché possano essere competitivi sul mercato. Questo con il supporto del leasing è possibile grazie alla possibilità di customizzare quelle che sono le necessità di investimento e quelle che sono anche gli impegni finanziari per quanto riguarda le imprese.